Ciao a tutte, oggi volevo parlarvi un po' di serie tv, in particolare le mie serie tv preferite e ho pensato di farlo, questo è lo schermo del mio cellulare, la prima volta che provo a fare una cosa così e ho pensato di farlo facendovi vedere una delle app che utilizzo solitamente che si chiama TV Time, quella lì in alto perché qui ho veramente messo tutte le mie serie preferite, tutte le mie cose qui ho i prossimi episodi da guardare, è un'app molto carina allora, vediamo, qui ci sono le mie cose adesso vediamo se me li fa vedere tutti, ok dovrei avere da qualche parte anche le serie finite, ok, ecco qua allora, vediamo, queste sono tutte le... ho fatto un video in passato a riguardo ma è difficile ricordarsi tutto e questo mi aiuta molto perché ho cercato di mettere tutto quello che ho guardato sto vedendo, quindi è abbastanza accurato allora, serie tv che ho finito, beh, Buffy ed Angel che a me sono piaciuti all'epoca, insomma Army Wives, anche quello molto carino, abbastanza straziante Dexter, che io l'ho adorato questa qua è Don't Trust the Bitch in the Apartment 23 questa qua aveva poche stagioni, esatto, solo due stagioni e c'è il tipo di Dozen Creek in questa potete vedere anche tutto il cast, tutto quanto che è James Van Der Beek sì, James Van Der Beek molto molto divertente, se volete guardarlo sono solo due stagioni Faccia d'Angelo ogni tanto mi guardo qualcosa di questo genere ma normalmente non sono amante però se sono fatti bene mi piacciono mi è piaciuto quello di Faccia d'Angelo credo siano due episodi sì, sono due episodi poi ovviamente Friends se non l'avete visto lo dovete vedere Glimmer Girls e qui non so se ci sono anche quelle nuove no, non ci sono quelle nuove ma ho visto tutto e anche quelle che hanno fatto ultimamente anche questo è da guardare Gossip Girl avevo letto i libri ancora prima che facessero il telefilm ancora vi parlo di forse ero alle medie, primi anni delle superiori c'erano questi libri riguardo alla storia di questi ragazzi e poi ho visto che hanno fatto il telefilm quindi mi sono messo a guardarlo le prime stagioni un po' più interessata poi ho perso un po' interesse però tendenzialmente quando inizio un telefilm voglio finirlo Heart of Dixie finito di recente molto molto bello peccato siano solo quattro stagioni con la ragazza quella di Yossi cioè Rachel Bilson e chi altro c'è che potreste conoscere non so se conoscete Chris Williams che a me piace molto come attore che è quello di Black Lightning che la sto facendo Black Lightning How I Met Your Mother bellissimo dovete vederlo credo sappiate di cosa si tratta è la storia di praticamente Ted che racconta ai suoi figli come ha conosciuto la madre I Am Kate I Am Kate è uno spin off delle Kardashian riguardante il papà delle ultime due sorelle oddio mi sfugge il nome del papà Jenner Jenner cosa? Jenner è il cognome Bruce Bruce Jenner che poi è diventata Kayling Jenner ecco sì io l'ho guardato un po' particolare Chloe Lamar anche questo è un altro spin off delle Kardashian mi sono guardata anche queste credo di essere riguardati tutti mi manca forse non mi ricordo se ho guardato Chyna e Rob non so non mi ricordo se ho guardato quello questo qua Life As We Know It l'hanno fatto un sacco di anni fa 2004 lo facevano su MTV e c'è la figlia di Ozzy Osbourne ossia Kylie Osbourne molto adolescenziale però carino insomma Life of Kylie un altro spin off delle Kardashian fatta solo una stagione però ve lo sono guardato a me piacciono le Kardashian piacciono anche a Marcus ce li guardiamo assieme Necessary Roughness molto carino non ne ho mai sentito parlare è finito erano solo tre stagioni da 2011-2013 e praticamente parla di questa donna che è una terapista e diventa la terapista di una squadra di football ed è molto interessante poi ci sono ci saranno dei triangoli amorosi con questa con questa terapista molto carino anche abbastanza divertente Perception anche questo è finito 2012-2015 l'ho guardato perché ovviamente c'è l'attore di Will & Grace Will & Grace cioè Eric McCormack è molto carino praticamente c'è questa questa ragazza questa gente dell'FBI che chiede aiuto a lui perché lui è un in realtà è un professore universitario riguardante qualcosa tipo neurologia ma in realtà lui soffre anche di schizofrenia ma lui li aiuterà come al solito a risolvere i casi e poi c'è sempre il triangolo amoroso un po' insomma il solito cliché ma molto carino anche abbastanza divertente Revenge Revenge mi è piaciuto molto Revenge mi è piaciuto molto è la storia di questa ragazza che si rifà una nuova identità e cerca di rivendicare la morte praticamente del o chi è incassato il padre che è finito in prigione come terrorista anche se non aveva colpo l'attrice che è Emily Van Camp che è quella di Everwood si chiama il telefilm tra le altre cose io non lo sapevo è veramente sposata con Joshua Bowman questo qui sono veramente sposati assieme ok poi oh Robin China l'ho vista Robin China a quanto pare hanno fatto una stagione sola a sei episodi Robin China lui il fratello lei è l'ex fidanzata si sono già lasciati hanno avuto una bimba romanzo criminale questo mi è piaciuto molto credo di aver visto prima il film con Pierfrancesco Favino Kim Rossi Stewart e poi mi sono andata a vedere la serie secondo me se vi piace il genere è sicuramente da vedere se non vi piace proverei comunque a guardare qualcosa perché è veramente ben fatto Scrubs ok Scrubs è anche questo è come Friends non potete non averlo visto credo non ci sia altro da aggiungere al riguardo Secret Diary of a Cool Girl cosa un po' particolare l'ho guardata perché avevo letto il libro avevo letto il libro di questa storia e praticamente questa ragazza è una non mi ricordo c'è una escort o una prostituta e quindi racconta le sue storie e poi come al solito c'è le storie d'amore le storie d'amore ci sta dappertutto in poche parole Sex and the City beh sicuramente questo l'avrete visto ci inizio da dire mi mancano i film non credo di averli visti tutti i film ho visto qualcuno non so se li ho visti ho visto sicuro quello di Abu Dhabi perché ogni tanto li fanno per tv di Abu Dhabi sì vabbè D.O.C anche questo molto adolescenziale visto anni e anni fa The Osborns questo l'ho visto parecchi anni fa dal 2002 al 2005 spero sappiate chi siano gli Osborn c'è Ozzy Osborn poi c'è la mamma e i due figli e praticamente sono schizzati al massimo e dovete vederlo poi passo avanti qui The Vampire Diaries beh anche questo sicuramente se ne ho sentito parlare l'hanno finito è finito adesso da poco carino devo dire alla fine per me era diventato un po' ridondante però insomma li ho guardati lo stesso poi hanno fatto lo spin off con The Originals che vorrei vedere della verità True Blood è carino è carino poi sì poi verso la fine diventa un po' un casino escono sempre fuori creature nuove avevo letto anche uno o due libri di True Blood della verità poi mi sono persa The Sopranos questa l'ho appena finita tipo una settimana fa e avevo visto qualche episodio qua e là però non mi ero mai messa a guardarla tutta e l'ho iniziato e nel giro di non ho messo tanto a guardarmela non so quando l'ho iniziata forse nel giro di due mesi neanche anche meno l'ho finita non sono tante stagioni sono sei stagioni e a me è piaciuto tanto a me è piaciuto tanto mi piace mi piace James Gandolfini che è il boss Tony Soprano e ci sono veramente è un po' sì c'è la storia della della di questo clan mafioso però c'è anche la storia della famiglia diciamo è carino io se fossi voglio guarderei non mi farei speventare dal fatto che è un film riguardante cose di mafia poi vediamo questo è molto carino perché qua mi dice adesso questa è la mia diciamo pagina personale quindi mi dà un po' di cose mi dice quali sono i miei film preferiti ah qui c'è anche Will & Grace che ovviamente ho visto tutto ho visto anche le nuove puntate credo abbiano finito basta sì hanno finito purtroppo dicono presente ma non sono previste altre puntate per qua vi dicono anche quando sono previste le nuove puntate le ho viste tutte quindi è finita purtroppo sì qui mi dicono i miei preferiti i prossimi da guardare quelli che non ho ancora iniziato ma mi piacerebbe vedere quelli che ho iniziato ma ho lasciato da parte quelli che stanno ritornando e quelli che ho in pari guardo controllo questa cosa sono già a 12 minuti oh mamma mia ok in pari ok Nighty Day Fiancé Nighty Day Fiancé e Before Nighty Days queste qua le fanno anche da qualche parte tipo sul canale 31 o su cielo o qualcosa del genere praticamente sono quelli che fanno il visto fiancé che si innamorano sono di un altro paese si innamorano di qualcuno residente negli Stati Uniti e poi fanno c'è la possibilità di fare questo visto fiancé entro 90 giorni però dove bisogna sposarsi altrimenti si va a casa questo piace anche a Marco se lo guardiamo assieme Boss Nails Boss Nails ha fatto veramente poco ha fatto una stagione e praticamente parla di questa imprenditrice che ha questo salone riguardante le unghie poi c'è del dramma come al solito Close stessa storia sempre un salone di bellezza molto carino particolare come telefilm hanno fatto la prima stagione sto aspettando la seconda anche questo piace a Marco sono cose che potete guardare anche con i vostri fidanzati marini marini fidanzati mariti questo qua è Gilmore Girls A Year in the Life sono i quattro episodi che hanno fatto li ho visti molto belli Keeping Up With The Kardashian ovviamente io li guardo Lavany Pop Atlanta queste sono diverse serie c'è Lavany Pop adesso fanno quello Miami c'è Atlanta Hollywood New York ce ne sono un paio qualcuno li ha seguiti qualcuno no mi piacciono particolarmente a Marcus quello che preferisco è Lavany Pop Atlanta perché è un po' più interessante e niente praticamente ci sono questi rapper e queste cantanti che raccontano tutte le loro vicende tipo un reality in poche parole molto pozzoidi si lanciano bicchieri in faccia a manetta cose del genere New Girl New Girl a me piace veramente tanto e purtroppo siamo alla settima stagione ho già visto il primo episodio e ci saranno solo otto episodi sarà l'ultima stagione che tristezza Revenge Body Revenge Body ovviamente con le Kardashian questa è Chloe Kardashian e praticamente hanno fatto solo due stagioni non so se faranno una terza sono queste di solito hanno due persone a puntata che praticamente vogliono avere il loro Revenge Body il corpo di vendetta praticamente vogliono solitamente rifarsi su qualcuno e quindi hanno 12 settimane con un trainer a disposizione per cambiare totalmente il loro corpo però poi sicuramente di solito accade così che sicuramente durante il percorso parlando con gli psicologi si accorgeranno che magari c'è quella che è stata mollata dal fidanzato e dopo 12 settimane vuole mostrarsi al suo fidanzato e fargli tipo gnè gnè hai visto e e invece poi parlando con gli psicologi con gli psicologi si accorgeranno che questo cambiamento lo vogliono perché lo vogliono per loro non fare niente degli altri e cose così This Is Us This Is Us bellissimo ve lo dovete assolutamente vedere io in realtà l'ho visto proprio ho visto la prima stagione e metà della seconda tutta assieme perché non sapevo di questo telefilm e l'ho scoperto perché questo ragazzotto qua che è Sterling K. Brown sì ce l'ho su Instagram perché era su Army Wives e ho visto che emetteva di questo telefilm quindi sono andata a vedermi di cosa si trattava e c'è anche Milo Ventimiglia Milo Ventimiglia che fa il papà della situazione che è ovviamente quello di una mamma per amica bellissimo molto commovente sicuramente da guardare ok qui a Will e Grace ne ho già parlato whose line is anyway ok questo qua è un è uno show che mi ha fatto scoprire Marcus qui ce ne sono tre sono tre comici solitamente sono anche in quattro hanno sempre ospiti ma anche li ruotano un po' e hanno fatto veramente tante stagioni nel corso degli anni praticamente è uno show basato sull'improvvisazione e c'è veramente da ammazzarsi dalle risate qui potreste riconoscere c'è Ryan come si chiama Ryan Stiles che è anche in due uomini e mezzo ho visto negli ultimi ma non so se quanti ultimi episodi siano quelli che ho visto per tv che c'è Ryan Stiles e Wayne Brady che è il quello che fa il fratello su alla fine arriva mamma si tra l'altro qui ho i titoli in inglese non ho neanche pensato si è il fratello di Barney e questi siamo in pari sta tornando Love and Hip Hop New York va bene per dopo qui ho guardato qualcosina ok poi li ho messi per dopo According to Jim che è la vita secondo Jim lo guardo quando lo fanno al pomeriggio se lo becco quindi ho visto qualcosa mi piacerebbe guardarlo tutto American Horror Story American Horror Story ok ho visto le prime due stagioni avevo iniziato la terza il problema è che mi piace ma ho paura quindi tipo la seconda stagione le ho guardate tutte insieme a Marcus quando era qua e niente non ho il coraggio di andare avanti con la terza che è quella dei clown quindi intanto la lascio lì mi piace ma Breaking Bad è una cosa che voglio guardare ovviamente è qui però ho visto tipo ho visto solo i primi due episodi quindi sovramente poco Catfish Catfish l'avrete sicuramente visto su MTV sono persone che adescano altre persone nella rete spacciandosi per qualcun altro e quindi ho visto molti episodi qui e là ma volevo guardarmi tutti adesso ero arrivata alla quarta stagione questi li ho messi un po' da parte perché volevo andare avanti con gli altri stagioni altrimenti poi mi con gli altri telefilm altrimenti poi mi incasino In Treatment In Treatment questa qua è una serie che credo sia rifatta da una credo sia un telefilm americano ci sono tre stagioni ho visto le prime due avevo iniziato la terza e praticamente c'è questo psicologo che è Castellitto che a me piace molto e niente ci sono tutte le storie di questi suoi pazienti vi fanno proprio vedere il telefilm è suddiviso con ogni episodio c'è la seduta di un paziente e ritornerà praticamente c'è il paziente che ha la seduta il lunedì chi ce l'ha il martedì e ogni volta loro seguono lo stesso ordine molto particolare molto particolare Joy avevo voglia di iniziare a guardare Joy ho guardato un episodio adesso ho visto adesso perché prima non ci avevo fatto caso perché quando ho visto Joy non avevo ancora visto sui soprano ho appena fatto caso che la ragazza che è qui che non so che parte faccia non mi ricordo neanche se fa la sorella sì Gina Tribbiani Dria De Matteo è la ragazza che fa Adriana sui soprano la finanzata di Chris non avevo neanche fatto caso e invece questo qua Paolo Costanzo è il è quello che fa Growing Pains come si chiama Growing Pains oddio quello dove ci sono i due medici che sono fratelli e curano le celebrità perché mi ricordo i nomi in inglese non mi ricordo in italiano non lo so non mi viene in mente qui c'è Love and Hip Hop ok Love and Hip Hop New York qui mi sono persa perché sono arrivati all'ottava stagione io sono ancora alla sesta sono sempre quelli dei bicchieri in faccia in poche parole Sister Wives avevo visto qualche puntata mi ero messa a guardarlo un pochettino ho fatto le prima e un po' della seconda stagione poi le ho messo da parte di solito mi fisso su un telefilm lo inizio mi guardo un casino di episodi tutti di seguito e poi le ho metto da parte perché proprio tipo la nausea non è il momento e poi quando lo riprendo mi rifisso un'altra volta Supernatural Supernatural probabilmente lo conoscerete ha ben 13 stagioni e lo stanno ancora facendo in realtà ho iniziato a guardarlo perché ho scoperto su un'intervista credo su Jimmy Kimmel che c'è l'attore eccolo qua oddio dove sei andato adesso che è il papà dei fratelli ok Jeffrey Dean Morgan è nel in questo dei film mi piace molto che è Danny Duque su Grace Anatomy quello di Izzy sì Supernatural e praticamente trovano tutti questi spiriti i mostri i demoni loro gli vanno ogni volta seguono queste missioni mandati dal padre e salvano la donzella di turno Teen Mom Teen Mom ho visto qualcosa su MTV niente volevo riprenderlo in mano perché non mi ricordavo le varie vicende poi ne erano fatti diversi di Teen Mom comunque sono partita dal primo mi sono guardata un po' c'è un half man che è due uomini e mezzo anche questo ho visto qualche puntata il pomeriggio così ma volevo partire partire un po' dall'inizio riprenderlo in mano ok che altro abbiamo qui i prossimi da guardare questi 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 e quelli questi sono quelli che sto guardando al momento ho Scandal che ho iniziato a guardare mi piace molto 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 è sempre della di Shonda Rhimes che è quella di Grace Anatomy e qui è un po' diverso c'è questa Olivia Pope che praticamente si occupa di si occupa di aiuta queste celebrità o personalità molto importanti ad evitare questi scandali e in più lavora per la Casa Bianca e c'è ovviamente l'inciuccio con il presidente sono alla ho iniziato la quarta stagione appena cominciato poi c'è Web Therapy con Lisa Kudrow ovvero Phoebe di Friends molto carina divertente lei è praticamente una terapista solo che fa queste sedute tramite il tramite video chat praticamente e lei è molto brava Big Ben ups questo video sarà lunghissimo Big Ben Theory Big Ben Theory anche questo a me piace molto lo seguo sempre ah ultimamente mi sono persa degli episodi mi sono persa l'ultimo e niente dai Big Ben Theory lo sapete conoscete Sheldon e a proposito sto guardando anche Young Sheldon che anche questo è molto carino ve lo consiglio Christian Atto mi manca l'ultimo episodio non so se l'abbiano fatto oggi Black Lightning quello che vi dicevo prima con Chris Williams solitamente non guardo cose di supereroi ma ho provato a guardare queste mi piacciono molto soprattutto le musiche e mi ha un po' preso e praticamente lui fa le parte di un ex eroe in pensione che si è fatto una famiglia ha due figlie grandi che deve ritornare praticamente all'attacco perché ci sono dei problemi abbastanza diciamo realistico per quanto lui sia un supereroe però per quanto riguarda la realtà della società è abbastanza realistico house of cards ho iniziato a guardarlo questo piace molto a marcus quindi aspetto sempre di vederlo assieme e niente della storia di questo Kevin Spacey che adesso non so esattamente quale sia la sua posizione nell'amministrazione della della casa bianca comunque si occupa ha un qualche ruolo nella casa bianca e praticamente non lo so io non l'ho ancora ben capito questo coso lui cerca di far è un po' come revenge cerca di far fuori delle persone anche se non fisicamente un po' per vendetta non so mi sta un po' sulle scatole il protagonista devo dire basta direi che intanto per questa volta finiamo qui e quando comincerò o finirò altri episodi vi farò sapere comunque questa app è molto carina c'è anche i quiz tutte quelle cosine lì e sono andata lunga con questo video questi sono gli episodi che ho visto fino ad ora sono 4415 tempo è piegato 3 mesi 28 giorni e 10 ore e vedete questi sono episodi visti per settimana ho delle settimane veramente uscene e niente ci sono anche le classifiche poi si diventa competitivi con gli altri ho superato un po' di gente solo perché vi danno dei dei distintivi sbloccate dei distintivi man mano che andate avanti ecco ci sono i quiz vi danno informazioni sul genere sui genere che di solito guardate e niente tutto qui a ogni episodio lo potete anche commentare lo potete anche commentare vediamo non voglio dare uno spoiler così vedete le reazioni della comunità c'è la gente che mette tipo il video con la faccia di quando sta vedendo soprattutto se è tipo il finale però dopo ci sono anche meme ci sono cose un po' divertenti sì ci sono tutti meme è abbastanza divertente vedere i commenti della della gente e basta tutto qui vi lascio perché questo video è stato veramente eterno ditemi quali sono le vostre serie preferite e cosa non ho visto che dovrei guardare e basta ci vediamo presto ciao